Il tema contrapposizione lavoro ambiente, lavoro ambiente, lavoro e salute è mal posto, noi oggi proprio alla luce anche di questo aumento della consapevolezza, della necessità di una scelta e di un cambiamento, la cosa che dobbiamo porre, la questione fondamentale che dobbiamo porre è come in questa fase si gestisce una transizione che ha effetti così profondi nell'economia e nel lavoro attraverso la definizione di una visione generale e quindi attraverso politiche economiche, investimenti e politiche sociali, lo dico così, oggi è necessario affiancare il Green Deal, il Social Deal, perché se non teniamo insieme i temi del lavoro e i temi della riconversione ecologica delle produzioni, probabilmente stiamo facendo un altro gravissimo errore, da questo punto di vista basta ambiguità, anche rispetto alle scelte europee.